La sottoscrizione di un documento che illustra nei dettagli tutte le attività in corso e di progetti da realizzare sul territorio della provincia di Barletta, Andrea e Trani. Questo è stato il risultato di un incontro tra la direzione generale della ASLBAT, le organizzazioni confederali di categoria CGL, CISL e UIL, le categorie pensionati sempre delle tre sigle sindacali principali. Tanti i punti previsti dal documento, primo tra tutti il piano di riordino, cui andrà dato seguito con la riconversione in PTA, Presidio Territoriale di Assistenza, del Presidio Ospedaliero di Trani, già avviato come da protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune e la Regione, la riconversione in Presidio Postacuzzi e dello Stabilimento Ospedaliero di Canosa, nonché il trasferimento di alcuni reparti. In particolare, dopo l'estate prossima, si prevede di ultimare i lavori di ristrutturazione, già in corso di giudicazione, che consentiranno il definitivo trasferimento del reparto di psichiatria da Barletta a Biceglie e che permetteranno, di conseguenza, il trasferimento del reparto di gastroenterologia da Trani a Barletta. Entro lo stesso termine è inoltre ipotizzabile il trasferimento a Biceglie del reparto di medicina interna, attualmente collocato a Trani. Tra gli altri punti affrontati, anche quello delle liste d'attesa, sul quale la Direzione Generale ha specificato che la riorganizzazione dei servizi sarà strumento di abbattimento delle stesse. Quello dei punti di primo intervento, che resteranno attivi su Trani a Canosa gestiti dal 118, è quello del Centro Unico di Prenotazione, il cui appalto è ancora in corso di aggiudicazione. L'incontro con le organizzazioni sindacali è stato molto più che proficuo, ha dichiarato Alessandro Delle Donne, direttore generale della ASLBAT. È stata occasione per condividere le attività che saranno portate a termine già nei prossimi mesi, al fine di migliorare le risposte di assistenza su tutto il territorio. Si è trattato, ha aggiunto il direttore, di un incontro interlocutorio e proficuo, che ha portato alla definizione di importanti passaggi per affrontare alcune delle problematiche più rilevanti e di diffuso interesse, sulle quali sia il Governatore Emiliano che la Direzione Generale della ASLBAT stanno ponendo massima attenzione e velocità, come testimoniano i recenti e sempre più frequenti interessamenti personali del Presidente, sullo stato di attuazione di tanti progetti in corso e in avvio, come ad esempio il nuovo ospedale di Andria o la manutenzione delle strutture attive.